Buongiorno a tutti. Oggi affronteremo le ultime notizie sullo stato di salute di Massimo Bossetti. Prima di cominciare, vi invito a iscrivervi per non perdere altri aggiornamenti. Grazie. È essenziale comprendere che Massimo Bossetti non sta attraversando un buon momento e la sua salute è motivo di preoccupazione. Diversi fattori potrebbero influenzare la sua attuale situazione ed è cruciale affrontarli prontamente. Ricercare cure mediche adeguate è fondamentale per migliorare il suo benessere. Dobbiamo dimostrare empatia e sostegno, anche considerando che il suo passato potrebbe non essere chiaro. Rispettare la sua privacy e concedergli lo spazio necessario per focalizzarsi sulla sua guarigione è fondamentale. Mantenendoci informati e mostrando comprensione, possiamo contribuire positivamente al percorso di Massimo Bossetti verso una migliore salute. Vi prego di iscrivervi per sostenere il canale. Grazie. 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 Grazie.